In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati registrati 1628 casi positivi al covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara anche attraverso l'istituto zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri dunque si registra un aumento di 65 nuovi casi. 354 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 62 in provincia dell'Aquila, 77 in provincia di Chieti, 125 in provincia di Pescara e 90 in provincia di Teramo, 71 in terapia intensiva, 14 in provincia dell'Aquila, 15 in provincia di Chieti, 31 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo, mentre gli altri 931 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 153 pazienti deceduti, 119 invece sono i guariti di cui 103 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid-19 sono diventati asintomatici e 16 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 12.837 test di cui 7.801 sono risultati negativi. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Nel totale dei casi positivi 174 si riferiscono alla ASLE Avezzano Sulmona L'Aquila, 317 alla ASLE Lanciano Vastochieti, 700 alla ASLE di Pescara e 437 alla ASLE di Teramo. Dei 65 casi positivi al covid-19 registrati oggi 7 fanno riferimento alla ASLE Avezzano Sulmona L'Aquila, 6 alla ASLE Lanciano Vastochieti, 32 alla ASLE di Pescara e 20 alla ASLE di Teramo. Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa ASLE provinciale. Inoltre per ragioni cliniche ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro anche in presidi di ASLE differenti.